Jack Di Maio, titolare di Cosmo Italy, grande negozio, mi hanno spiegato, sito in Santa Maria di Catanzaro. Ci parli della tua attività? Diciamo che più che negozio, noi abbiamo la distribuzione per l'Italia di alcune aziende di cosmetici, in esclusiva, quindi lavoriamo in tutta Italia, giusto con questi marchi. Dopodiché abbiamo anche la distribuzione per prodotti estetici, padrucchieri, lavoriamo molto in Sicilia, Campania, fino a Lazio. E poi abbiamo dei punti vendita al dettaglio, tra cui un negozio di 160 m2, sito sulla strada principale in Viale Cassi d'Oro a Santa Maria di Catanzaro. Bene, noi siamo alle finali nazionali di Ragazza Moda e Spettacolo, la vostra azienda è sponsor? Sì, noi siamo sponsor nazionali e in pratica andiamo a premiare due ragazze con due fasce di Cosmo Italy, una per quanto riguarda Cosmo Italy Makeup, per quanto riguarda solo la linea cosmetica, e l'altra è una ragazza per il moda e spettacolo, sempre Cosmo Italy, che insomma ci saranno le nostre prove, i nostri testimonial, i nostri testimonial per il prossimo anno. Avete già scelto queste ragazze o saranno scelte questa sera? Diciamo che abbiamo già qualcosa in mente, vediamo un attimino poi poi di giù. Saranno rese pubbliche questa sera, quindi non possiamo ancora svelarle. Come le è sembrata questa manifestazione del padron Tonino Galli? No, è molto interno, è il primo anno che sono con loro, quindi che risponsorizzo, è una manifestazione che è riuscita abbastanza bene, molto bene, anche perché non è la classica spillata di moda che va fatta con le solite ragazze che sfilano sul palco, ma c'è molto spettacolo, c'è delle ragazze che si esprimono nei loro modi migliori, si sanno cantare, sanno ballare. Che è la parte del spettacolo, diciamo? Giustamente non è una cosa monotera, è una classica manifestazione della passarella, ma anche qualcosa di più bello, più importante anche per le stesse ragazze, possono avere poi un futuro migliore, insomma, e trovare, non lo so, qualche agenzia o qualcosa che vi possa lanciare nel mondo della moda. Hai seguito anche le altre serate? Sì, sì. Soddisfatto della vincitrice di moda international di ieri? Sì, sì, quella là sì, anche perché è la mia preferita, insomma, che avevo votato. Buonasera, buonasera a tutti. Ah, sei anche in giuria? Sì, sì, sono in giuria. E come sta andando? Allora, iniziate a prendere posto perché poi tra 15 minuti abbiamo inizio alla serata. Perché questa sera ci sarà la TV con le scorse serate, è una cosa sconveniente chiamare l'applauso, io non lo chiamerò nel corso della serata l'applauso. Quindi cerchiamo di avere un codice in maniera tale da poter anche interagire e collaborare con voi. Quando io, tanto sentirete il mio tono della voce, in ogni caso, quando apro il braccio, quando allargo il braccio, in quel momento significa che ovviamente è indispensabile il vostro applauso. Quindi voi vedrete, insomma, credo che sia molto semplice. Quindi io vorrei provarlo, lo proviamo? Lo proviamo? Insomma, allora. Mi impalare. Grazie. Taglio, taglio. Taglio, taglio.